Il presidio dei centri sociali del nord-est alle Zatteri di Venezia, in solidarietà con la resistenza di Kobane, si è trasformato in corteo verso il Consolato Turco, la stazione marittima di Venezia. Il Consolato Turco deve uscire perché il Consolato Turco, la Turchia, è responsabile della chiusura dei confini. Il corteo è arrivato fino a San Basilio, il ponte prima della marittima, dietro la quale si trova il Consolato Onorario Turco. I compagni stanno resistendo alla carica della polizia, dietro gli scudi. Teniamo, teniamo gli scudi, resistiamo, resistiamo perché siamo con la resistenza di Kobane. Questo è il presidio dei centri sociali, il quartiere centri sociali del nord-est che come a Milano lo scorso 11 ottobre hanno manifestato davanti al Consolato Turco. Anche oggi si vuole andare a toccare questo luogo, come è stato fatto in precedenza, sempre qui a Venezia, nella scorsa settimana, perché non vengono accettate le politiche portate avanti dal governo turco, la chiusura dei confini adoperata verso il popolo turco, verso il popolo kurdo e non verso invece le milizie dell'ISIS che continuano ad assediare, ad attaccare il popolo in resistenza. Popolo che però sta continuando, ormai siamo a più di 30 giorni della resistenza della città di Kobane, si stanno riprendendo pezzo dopo pezzo la città, anche se i morti ogni giorno sono sempre di più. Grazie.